Ok aspettiamo che entrino e poi Tildema andrà a parlare con loro E appena entrano anche i dromedari Ok vai a parlare con loro Perfetto Perfetto andata Ehi siamo alleati Perché abbiamo fatto proprio questo trade Nice mi piace mi piace Siamo neutrali con gli altri e ostile con gli altri due Unica pecca guardate che ci sono poche fazioni in realtà Mi serve qualcun altro che faccia soltanto i mattoni allora Dobbiamo istruire qualcuno Takuma Vai Quante se ne sono rovinate di quelle Ok ne abbiamo tre Adesso fecondate Quattro fecondate Al 75% quelle tre pure Stanno arrivando tipo un casino Ma un casino ragazzi di Di polli galline quindi Il pollaio praticamente entrerà in funzione già pieno Mannaggia Ok allora avevo detto che avremmo Istruito takuma Quindi basta E vai a fare dei mattoni Takuma Boiade Fermati Sintetizza Penoxicillina Ecco è mediocre Ah non ce l'avevamo la penoxicillina comunque Ho svegliato presto Alice Per quattro di mattina Mannaggia Un altro grossissimo Va bene Ok Ok Vai Tildemo Oh boy Cosa possiamo comprare Compriamo questo Questo O di galline non fecondate Non mi interessa L'acciaio si mi interessa La birra non la voglio E ci siamo Si Andata Allora Game of Hardboard Hardboard Non so cosa sia Quindi lo schiaffiamo Non so cosa sia Sinceramente Quindi Guardate qua Quanta birra Che spareremo fuori Poi Che hai qua fuori Invece le risorse Scarsigiano Ovviamente Però abbiamo costruito queste qua Le precision turret Ottimo E abbiamo già Una buona difesa Veramente Sarebbe male fare così anche E bloccare Però no Non lo facciamo ancora Quello che mi preoccupa di più È questa zona qua In realtà Questa qua Però come vedete È fuori range Praticamente per tutto A parte le precision turret Richiesta della carovana Cos'è che vogliono Normal quality or better No ma non posso In qualsiasi caso Non Non accetterei Perché sono troppo lontane Steso tra 1.2 giorni Ok Qua c'è ancora fango O sono tante materia Ok Si inizio a rovinare i miei coloni Con la droga A caso Oddio hanno schiuso le uova Siamo pieni di pulcini Siamo pieni di pulcini Oh boy Quanti sono Tipo però ce n'è Non ci manca Non vedevo l'ora Di mettere in funzione Il pollaio Eh Però qua posso rimuovere Sì Scava 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 Perché Frank è bassissimo Di costruzione A 6 Un boa Ecco un boa Morta Mio dio Vi prego non ditemi Che un boa È quella che è morta Ok Spero di no Perché allora Questa sarebbe la sua scultura Oh La plate armor Sapete che la diamo La plate armor A team demo Oh boy Questa qua è un'armatura a scaglie Tipo Bellissimo No Comunque Le tolgo L'obbligo Però Le devo dire Di portare qua Anche la Armatura Vestiti Plate armor Nice Flak Perchè da quello che ho letto Eh non posso farli qua C'è tipo questo Questo indumento Che si chiama Flak Qualcosa Flak Flak Jacket Flak pants Dovrebbe essere Che hanno Dell'armatura Costruita All'interno Però non so Dove si possa fare Non è qua Uh sono arrivati Quelli per i vestiti Nice Cultura no Chissà dove si fa Si farà qua Eh si Si fanno qua Eh no Ah si Ne facciamo fare uno Flak Jacket And pants Pants Ok Eh facciamo anche Lo scambio con questi qua Sono quelli per i vestiti Quindi Tildema Stai Sveglia Ok Vieni a commerciare Wow Seriamente Mi danno tutta sta Ma io vi vendo tutto E questo Non gli ho venduto nulla Praticamente Non gli ho venduto nulla Guardate È ancora pieno qua Dai però Palle Ma hanno ancora preso La smoke cliff Dove gliela faccio mettere? Da qua vicino Mi sembra giusto Ciao I pirati ci hanno appena detto Dovete pagare Perché siete vicini a noi E così Eviteremo di distruggervi Aha Aha Please tell me more Pianti C'è la tutto Devo andare su Materie prime Piante Smoke cliff Vai Eh sì però Una cosa La droga Me la dovete mettere qua vicino Devono mettere qua Almeno Gli dico Ehi la troca Mettetela qua Deve essere buono Quel pemmican Mmm Ma dai ma non ci credo Ho scambiato con Dei Dei Di una tribù Praticamente Costruiscilo anche Non fare il merda Costruzione fallita Ottimo Va bene Endel fai te Ah no ok Ci pensa di nuovo Frank Vediamo se si riuscirà a redimere Uh intanto abbiamo messo su un Volcan Cannon Mediocre Ovviamente Sembra giusto Coppia parametri Bravissimo Mandrillo Bravissimo Ok E anche i sensori Sono fatti Nice Ma gli ostacoli Vanno avanti Bene Ah sta facendo i flak pants Cioè i flak E basta Va bene Va bene Va bene Allora Terminiamo qua così E così Però Ellis Tu dovresti prepararmi Le altre cose Quei mattoni Niente Mi serve qualcun altro Che faccia dell'artigianato C'è Takuma E Mandrillo Ma Mandrillo Fa anche altro Già Eh va bene Va bene Allora ragazzotti Intanto che stiamo facendo Tantissimi progressi Però sto registrando da 55 minuti Posso terminare qua Vi ringrazio tantissimo Per avermi seguito Vi invito a lasciare un bel mi piace E un commento Dicendomi cosa ne pensate della serie Di tutti questi nuovi blocchi E materiali E oggetti che hanno aggiunto Ditemelo un po' Perché è tutta roba nuova Dell'aggiornamento Quindi è Bello sapere cosa ne pensate anche voi Spero che magari Nel prossimo episodio Riusciremo a mettere Su questo pollaio Perché voglio vedere Il trasferimento di questi Polli Galline Tutti qua dentro Li voglio vedere Floddare L'intera stanza Quindi Io tarmi qua Vi ringrazio ancora Sono Gold E noi ci vediamo al prossimo video Bye bye